Entra nel vivo oggi la settantaduesima edizione del Mandorlo in Fiore, con lo svolgimento dell'accensione del Tripode, al Tempio della Concordia, la partenza dal quartiere ellenistico romano, quest'anno per la prima volta, quindi l'arrivo dei patrimoni dell'UNESCO e dunque si apre al sipario del cuore della festa del Mandorlo. Domani intanto è prevista la fiaccolata per le vie della città. Oggi con l'assegnazione del premio Claudio Crescenzo al Teatro Pirandello, il Festival dei Bambini lascia il testimonian alla festa del Mandorlo dei Grandi, a contendersi il premio dell'AIFA, i gruppi dei bambini del mondo della Bulgaria, Indonesia, Polonia, Turchia e Ucraina. Al Pirandello la presentazione di testimoni al vicino a Claudio Crescenzo, come Osvaldo Loiacono, Claudia Puma, Alessandra Di Maida, Peppe Sciortino. Ospite d'onore la cantante catanese Rita Botto, una delle voci più belle della Sicilia, che sarà accompagnata sul palco del Pirandello da un gruppo di musicisti e grigendini messi insieme per l'occasione. Gli altri appuntamenti della giornata proseguono alla chiesa di San Pietro con l'Eritage Lab, gli archi di Pasqua di San Biagio Platani e nelle tecniche di costruzione, al Teatro Postavecchia e il Giufà, laboratori per ragazzi, open al Salone di San Giuseppe, danze siciliani, laboratori popolari con la collaborazione di Pino Biondo, quindi l'opera dei pupi alla chiesa di San Lorenzo. Intanto proseguono gli appuntamenti con il treno storico che attraversa la Valle dei Templi per fine settimana. Abbiamo pensato sia come Ferrovie Caos che con i patrogini di Fondazione FS, di Trenitalia, di creare un servizio come negli altri anni che da Porta Empedocle permette di raggiungere l'agrigento molto comodamente e quindi di assistere agli spettacoli finali del mandorle in fiore. Questo consente non solo di poter lasciare comodamente la macchina a Porta Empedocle, al porto o in via Lincoln e quindi usare il mezzo ferroviario per evitare il traffico e raggiungere agrigento, ma permette anche di ammirare la Valle dei Templi, di ammirare il paesaggio meraviglioso della Valle dei Templi tramite la Ferrovie dei Templi che è una delle poche al mondo che attraversa un barco archeologico. Quindi abbiamo rinnovato questa tradizione e invito tutti a servirsi e a munirsi di questo mezzo, non solo da Porta Empedocle ma anche da Real Monte, da Siculiana, dai paesi limitrofi perché per l'appunto si potrà assistere alla sfilata del mandorle senza l'ingombro della macchina e si potrà ammirare un panorama meraviglioso. I treni saranno il sabato, ci saranno due corse, il clou sarà ovviamente la domenica con il primo treno che da Porta Empedocle partirà alle 9.15 e per chi sale di mattina a Porta Empedocle c'è la possibilità poi di scendere nel pomeriggio con in totale quattro corse da e per agrigento centrale. Grazie 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 Grazie